e per la quinta ultima batteria Lorenzo Gaino 1 Lazar Zliucic alla 2 Gernei Previ alla 3 Giulio Roberto Bressan 4 Francesco Vicentini in 5 Michele Runzei Luca Dallabetta alla 7 Emanuele Fiorese in 8 Filippo Biasin in Gorsia 4 specialista del dorso e dello stile libero veloce 24-34 va al primo posto della classifica in attesa della quinta e una